Eccolo qua, bello a tutti dal vostro Gaboman, siamo tornati naturalmente su PES 2016, perché oggi è arrivato il momento di giocarci alla Coppa Challenge Online, questo è il classico chi vince se piglia tutto, quindi cercheremo di vincere la gente, se no si attacchiamo alla cosiddetta mazza. Allora, vediamo un po', Universidad de Cile, questo c'ha Can, Santon, addirittura ha messo difensore centrale, va bene, Sisma, Kion, Carval, Gomez, Iturra, Lavezzi, Osil, Bale e Seferovic, mi mettono paura Bale, Osil, Lavezzi e Oliver Can, perché comunque come portiere può far veramente la differenza. Detto questo, io me guardo la formazione, ci do un'occhiata, c'ho Ibra, Pogba e Tiago che stanno eccitati, però per il momento li lascio in panchina. Cominciamo la partita con Sida e gioco, allinea due tiratori nella punizione A2. Che cazzo bisogna fare? Allora, vedete? C'ho capito un cazzo, vabbè, stavo a cercare di legge, però va bene così. Monete MyClub, le monete, la moneta MyClub è la valuta virtuale usata in MyClub, se cacci gli sordi te le damo, se no ti attacchi al cazzo. Noi naturalmente, noi gli damo una lira e slovedinamo a ciabattella fino a svenì. Quindi, allora, la regia del Gabone ci porta subito all'azione di quelle esagerate, che non è per me però, quindi Gareth vale questo cuore. Attenzione, il primo grosso, oddio, il tiro, parata. Non cominciamo bene, vi dico la verità. Vabbè, calcio d'angolo per lui, mo' cercamo di far qualcosa, reagimo perché non posso subì gli attacchi solo sua. Devo contro pietà in qualche modo, devo far qualcosa. E batti, hai rotti i coglioni, eccolo qua, batte, butta via sta palla, mamma mia. Però questo mi sa che no, non rimane perché parte, no, non parte in cazzo, sto capì in cazzo, va bene. Daniele De Rossi, rimpostiamo l'azione da Abade, cerco passaggi rapidi, Cristiano Ronaldo, Robben, ancora Danielino De Rossi, il tac Penneimar. Ancora un passaggio che non filtra però, quindi l'azione si chiude qua. Se passa un'altra azione, io mo' ce provo qua, Abade che corre come un assassino. La palla è per aria e roba in il passaggio, oh mamma mia, però potrebbe essere buona questa. Ho segnato, ha fatto un gol di quelli assurdi, oh ma una cosa incredibile, vabbè, ho affolate proprio, di cattiveria. Mo' passiamo un'altra azione, o meglio, lui batte subito, eccolo, questo è il classico giocatore che cerca il lancio lungo. Io me copro, cerco un passaggio, ecco ho sbagliato il passaggio, guarda come va a finire, oddio, Osil, Osil, Osil mio, l'immortacci tua. Va bene così, no, l'immortacci tua no, perché non ha segnato, quindi te ringrazio. Passiamo un'altra azione, Ariel Robben, Schweinsteiger, questo chiude tutto quanto con Iturraspe, ma io recupero ancora la palla. Robben, cerco il cross, dagli col colpo di capoccia, l'immortacci sua che si è mangiato. E ce ne faremo una ragione di vita, passiamo un'altra azione, voglio il gol del 2-0, questa è buona. Cioè ha fischiato fuori gioco, era buona l'immortacci sua, ma guarda tu che roba, ma questo è calciopoli in pieno. Ma io non lo so se uno deve far vincere altre squadre, mo' se mette pure all'aggà così mi segna pure meglio. Un'altra parata, e vabbè, allora ditelo, questo spazza, io passo un'altra azione, voglio il gol del 2-0, De Cattiveria, Ignazio Abate, bello lo scavetto, Ariel Robben, il ciovattone, ma Oliver Kahn, guarda un porto è una cosa di quelle incredibili, non lo so io che cazzo c'ha quest'altro, eh. Va bene, passiamo al calcio d'angolo, quindi vai, steiga, e io cerco il cross in questo modo, parte, un colpo di testa che Ariel Robben spreca malamente, vaffanculo così, allora, taglie così, eccola, un'altra azione, eh, ce provo Neymar, il passaggio è sulla fascia per Giaia Touré, cerco naturalmente il cross, è carcio d'angolo, è rimessa, non ho capito, aspettiamo un attimo, vedete, no, è carcio d'angolo, bene, ok, e Spice Tiger, io ce riprovo ancora una volta, ancora Robben, ancora fuori, cioè, in realtà, l'aveva presa, però, l'hanno spazzata, passiamo un'altra azione, perché Osil ce riprova, guarda come li sarta, li mortacci tua, questo sarta, tancazza un altro, per fortuna che non mi ha assegnato, va bene così, passiamo ancora un'altra azione, Cristiano Ronaldo, Ariel Robben, taglie il passaggio di prima ancora, Ronaldo, taglie questo passaggio per Messi, eccolo, oddio, ma che cazzo te sei magnato, ma sei lì o nel Messi, cioè, c'ho i due giocatori più forti del mondo e sei magnato i gol, ma io non ce posso credere, passiamo un'altra azione, Giaia Pisellone, Dure Mocce, provo con lui, ma Oliver Kahn, è una cosa incredibile, le pia in faccia, le pallonate, ma la para, non c'è stancazzo da fare, calcio d'angolo, Mocce provo con Pogba, e quindi io grosso in questo modo, taglie De Capoccia, ma è possibile che De Capoccia ci fa sempre Robben? Ma là davanti c'ho Ronaldo, ma mi spiegate perché, vabbè, non lo so, ok, passiamo un'altra azione, ancora Paul Pogba, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, taglie con Messi, guarda come li sarta, tiro, tiro e se ne è magnato un altro, hai rotti i coglioni Messi, e te lo dico proprio sinceramente, eh, e va bene così ragazzi miei, ce l'ho fatta, finisce 1-0, 1-0, era una vita che non lo vedevo, alla faccia di chi dice che su PES le partite finiscono 34-33, 12 tiri a 6 ho fatto un gol, 8 tiri a 4 pure lui non è che non ha tirato, se vi è piaciuto il video mi raccomando, mettete un bel mi piace, commentate, condividete naturalmente, iscrivetevi al canale, e mostrano a fare un spacchettamento come promesso, perché l'ho vinta, e quindi se lo famo, The Five Legend, The Best Of 2095, 2000 qualcosa, e ciao Guardiola naturalmente come allenatore, è scaduto company, di Moro, lo so io, mi devo fare una trasfusione per pagargli il rinnovo del contratto, allora, vediamo un po', eh, agente speciale naturalmente, ancora una volta 14,4%, è una buona probabilità col cazzo, perché vabbè, eravamo abituati al 34% dei palloni nero con l'agente di prima, e, però so sicuro che becco il nero, dammi il nero, te prego, te prego, un par de cazzi, è incredibile, vabbè, rimaniamo un tema, queste sono palle, un par de cazzi, madonna, questo è capra, avevo letto capra, è capa, la capa non è buona però, purtroppo, perché questo, ce faccio un cazzo, lo spagnolo dell'Eibar, 23 anni, 1,73, abbastanza equilibrato, eh, perché comunque c'ha un po' de tutto sull'esagono, equilibrio 83, resistenza pure, velocità 80, vita offensiva 78, detto questo, cioè, io ho provato a fare la competizione per vincere la gente e magari becca un pallone nero, ma sono attaccato al cazzo, detto questo vi do appuntamento alla prossima, ancora con PES 2016, io vi saluto, regà, bella a tutti dal vostro Gabone, ciao!